Alla fine il Crotonen è riuscito a portare a casa la seconda vittoria della sua stagione, salendo solo a quota 6 in classifica, mentre il Torino, pur riacciuffando un punto in extremis, spreca l'opportunità di agganciare la Roma a quota 15. In casa i calabresi si confermano pericolosi, ma i Granata sembravano in grado, dopo lo svantaggio nel primo tempo, di ribaltare il risultato con un grande approccio nella seconda frazione di gioco. Dopo il gol del 2 gennaio di Martella e Crotone nel finale, ha cercato di gestire la situazione, con Kordatz che ha fatto buona guardia su un tentativo di Iago Falque, mentre Ageti è stato provvidenziale nel murare un colpo di testa sempre dello spagnolo. Proteste Granata al 41 per un contatto in area tra Ageti e Sadik, quindi al 44 è stata Ancoulo a sfiorare il pari di testa. Pari che è arrivato al 47 sugli sviluppi di un calcio d'angolo, assist di Aljajic e inserimento vincente di De Silvestri, che ha evitato a Miagiovic una nuova settimana di fuoco. Ag. di Fabio Belli